E' allarme furti nell'Alta Padovana, in particolare nella zona tra Cittadella, Facca e Piombino Dese. Ed è ora caccia da un Audi A4 scura. Dopo i sei colpi messi a segno nelle abitazioni, talvolta anche mentre erano presenti i proprietari, i residenti hanno segnalato ai carabinieri la presenza della berlina scura, avvistata soprattutto in tarda sera. Il sospetto è che si tratti dei ladri appostati per studiare i prossimi furti. Furto aggravato al centro commerciale Il Parco di Campo San Piero. I titolari del negozio Quello Giusto hanno segnalato ieri la presenza di un uomo che si aggirava in modo sospetto all'interno dello store. I militari hanno scoperto che l'uomo aveva rubato un portafoglio e un paio di jeans per un valore di 150 euro. Il ladro, albanese residente a Massanzago, è stato arrestato. Era entrato negli spogliatoi delle piscine comunali di San Pietro in Gu e in pochi minuti era riuscito a mettersi in tasca portafogli e cellulari. Lo hanno arrestato i carabinieri di Carbignano di Brenta che si trovavano in zona e che sono stati chiamati dai responsabili della piscina. Il ladro è un 39enne di Caldogno.